venerdì 11 settembre buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di fano tv questa è la rassegna stampa del mattino in diretta 11 settembre ahimè ci ricorda l'attentato alle torri gemelle ma stiamo parlando veramente ormai di tanti anni fa e allora il andiamo a vedere noi il santo detto che non ce l'abbiamo nel senso che non c'è il cartello però voglio dirvi anche giustamente chi è il santo di oggi forse sono due i santi vediamo un po se me li ricordo santi proteggiacinto e quindi sono questi santi di oggi mentre il tempo lo andiamo a vedere subito dopo lo stacchetto che dovremmo avere oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso con addensamenti comuniformi nelle zone montane qualche isolato piovasco soltanto al sud della regione in montagna mentre domani siamo già nel fine settimana di questo settembre comunque molto bello siamo possiamo dirvi che domani sarà una giornata di sole su tutta la regione soltanto qualche annuvolamento un po sul conero ma niente di che per domenica invece guardate che bella cartina che ci presenta la protezione civile delle marche il sole che splende dappertutto quindi sarà una giornata tipicamente estiva e che dunque andrà laddove sarà possibile vissuta appieno e allora andiamo a fare questa questo salto al mare con il nostro tommaso fulvi ugolini che oggi saluto non è che mi sei montato la testa no tommaso ti sei montato la testa ma ci mancherebbe anche perché sei sul giornale stamattina sei sul giornale guardala un po qua sulla prima pagina del carlino di fano ma addirittura ma insomma eccolo qua la pagina del ormai si è diventato famoso e questo ci fa piacere mare a vostro rischio e pericolo questo è il titolo del del resto del carlino stop ai salvataggi da questo fine settimana i bagnini iniziano a togliere le torrette a non garantire più il soccorso in mare tra l'altro in questa fotografia sei di profilo con il fischietto giallo ce l'hai con te no ci l'ho anche in armadietta t'ho beccato t'ho preso in castagna questa mattina va bene aspettiamo comunque aspettiamo comunque la bottiglia di spumante domani chiudiamo in bellezza ormai va benissimo ormai ne prendiamo allora dici come sarà il tempo e le condizioni meteomarine di oggi premetto condizioni meteomarine per ora favorevoli ma non giurerei sulle condizioni del mare fino a stasera i venti da nord già da stamattina fanno vedere un pochino un pochino di onda quindi speriamo che non cresca del pomeriggio però per ora bellissima giornata quindi ecco solo diciamo potrebbe cambiare soltanto sull'acqua nel senso che per il resto cioè il mare dovrebbe un attimino forse diventare un po più agitato per il resto manteniamo il sole e comunque una giornata bella va bene grazie allora tommy buona giornata a te buon lavoro a domani iniziamo con il carlino la pagina di pesero una scuola a metà liceo marconi su 1950 studenti lunedì saranno in aula soltanto 975 virus focolaio tra due famiglie cinque positivi tra cui due bambini dopo il contatto di un nucleo con un altro in totale altri 15 casi malumore nel partito democratico contro il sindaco ricci arrivano i big nazionali e ricci invita soltanto i suoi candidati a calcinelli erano i scooter si schiantano contro le auto ragazzi ora sono in ricoverati in gravi condizioni mattarella chiama la segre cara liliana buon compleanno i 90 anni della senatrice a vita gino invece de angeli l'ultima battaglia primo partigiano poi muratore l'addio lo vedremo nelle pagine interne poi furti il boom di fine estate caccia i topi colpi a raffica in appartamenti e ville altri due a villa fastigi e nel quartiere di pantano la scommessa poi sempre a pesero riapro in centro storica attività giusi 40 anni inaugura la parrucchieria che fu di girometti le storie dunque di chi resiste scuola stretta sulle regole titolo d'apertura del corriere adriatico di pesaro il controllo da app il protocollo da applicare soprattutto nella fascia da 0 a 6 anni riguarda gli educatori le famiglie né giochi da casa si potranno portare né scambi di quaderni anche i bambini coinvolti nella responsabilizzazione ci risiamo focolaio nella casa di riposo nel giorno del rialzo dei contagi 40 in tutte le marche spunta un focolaio in una casa di riposo privata nel fermano 18 positivi con una vittima di 92 anni e poi di taglio basso la vuelle per difiato roma schiantata 89 a 56 terza vittoria in quattro partite di super coppa a olbia e ancora dalle pagine sempre dalla prima pagina del corriere processo necrofori marche nord chiedi danni d'immagine minacce e insulti alla farmacista siamo contagiosi e a colli al metauro lo scooter finisce contro un'auto gravi due ragazzi allora dicevamo dei focolai ieri purtroppo ci sono stati c'è stata un'impennata di casi 40 casi 40 persone positive trovate positive al tampone e dunque come leggere questi questi dati in questo in questo momento secondo me basta la dichiarazione per esempio andando a livello nazionale di zangrillo su berlusconi a marzo ha detto zangrillo con una frase certamente shock berlusconi sarebbe morto come dire sì i numeri ci sono i numeri sono quelli di fine febbraio quando cominciavano ad arrivare i primi i primi contagi ma 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 qualcosa è comunque diverso sicuramente diverso rispetto a quella a quei mesi soprattutto non tanto per la questione dei numeri ma della chiamiamola così aggressività del virus un'altra impennata dunque improvvisa scrive il quotidiano questa mattina dei contagi nelle marche 40 abbiamo detto in 24 ore alimentata soprattutto dai cluster registrati nel piceno ad ascoli piceno ci sono state delle riunioni delle cene tra tra amici raduni conviviali che purtroppo hanno fatto schizzare in alto questa sticella e poi c'è un allarme l'allarme legato al ritorno del virus in uno degli ambienti più a rischio che sono le residenze protette per anziani con 18 casi positivi registrati in una casa di riposo a Sant'Elpidio a mare 13 ospiti positivi e 5 operatori che saranno contabilizzati nel bollettino di oggi poi c'è un'anziana vittima di 92 anni di Sant'Elpidio a mare sofferente però già da altre patologie che era stata ricoverata al muri di fermo l'altro ieri e non ce l'ha fatta questo è il corriere adriatico sempre sull'andamento del covid in regione anche il resto del carlino di Pesero si occupa della situazione nella nostra provincia famiglia rientra e ne infetta un'altra due bimbi piccoli tra i 5 positivi un focolaio registrato nell'alto Montefeltro per il contatto dei nuclei nuovo boom di contagio in tutto 15 c'è anche un fanese di 46 anni che ha dichiarato di essersi sentito male dopo essere andato a San Benedetto del Tronto una delle meteoturistiche marchigiane più frequentate per il fine settimana ma sotto la lente di ingrandimento come scrive Simona Spagnoli questa mattina sul giornale è in particolare il caso di una famiglia di immigrati che ha creato un piccolo cluster nell'alto Montefeltro si tratta di padre, madre e figlioletta di 3 anni che sono stati trovati positivi al loro rientro dall'Albania ma prima di essere posti in quarantena hanno fatto un tempo a trasmettere il virus ad un parente di 27 anni ed un'altra bambina di 2 anni poi c'è questo fatto, ogni tanto se ne sente qualcuna c'è questo fatto che viene registrato in Via Rossi a Pesero all'interno di una farmacia intorno alle 5 di ieri pomeriggio due extra comunitari uno dei quali era senza mascherina ha detto di essere affetto da una malattia contagiosa e per essere più credibile, più convincente a un certo punto si grattava da tutte le parti, in tutto il corpo questo ovviamente ha scatenato paura sia tra il personale della farmacia sia tra la clientela che era al banco poi è stata chiamata ovviamente la polizia ma si parla anche di furti in questo articolo due furti che sono avvenuti a Pantano e a Villa Fastigi dove le case sono state svaliggiate tornando a parlare di Covid e della scuola che inizierà tra qualche giorno sono tutti sul binario prima di arrivare in classe vedete la fotografia qui sotto, la simulazione ci sono dei percorsi obbligati al Marconi che il 14 quindi lunedì prossimo parte con la presenza di metà degli studenti come abbiamo visto in apertura e il classico invece con aule e vista mare diventa Mamiani Beach poi c'è il termoscanner parlante che ti misura la febbre e ti sgrida se non hai la mascherina vedete ha questo sistema di rilevazione che oltre la temperatura vede se al volto, in faccia porti la mascherina oppure no per i bambini non so, non sono uno psicologo ma qualcuno dice che sarà un po' un rientro così non parliamo adesso di traumi perché sicuramente i traumi sono altri però non potranno giocare, non potranno scambiarsi le merendine non potranno scambiarsi i penne, i quaderni e quant'altro insomma dei piccoli soldatini dovranno essere questi nostri bambini nelle scuole sono regole però che vanno rispettate destinate a regolamentare anche le giornate nelle scuole insomma negli asili nido e nelle scuole materne non solo educatori e famiglie ma anche i piccoli dunque dovranno responsabilizzarsi bisognerà vedere poi quelli un po' più agitati se si riusciranno a contenere oppure daranno da fare ma questa è un'altra cosa mai più i seggi nelle aule invece siamo vicino alle elezioni regionali sapete che i seggi comunemente si fanno nelle scuole qualcuno ci è riuscito a dire il vero a evitare di chiudere le aule e quindi trasferire i seggi da un'altra parte ma non in tutte le città oltre 1700 adesioni però già raccolte da un gruppo che si è costituito ad hoc dove appunto questo gruppo chiede di evitare la prossima volta di aprire i seggi nelle scuole dateci certezze sul trasporto degli studenti il titolo del carlino ma da fossombrone i genitori sono sempre più preoccupati se il mezzo sarà il completo ne avremo davvero uno aggiuntivo e soprattutto in orario perché giustamente se uno è pieno ora che arriva il secondo quanto tempo chi deve aspettare quanto bisognerà aspettare chi deve portare i figli a scuola tra pochi giorni matura dubbi e perplessità centro civico a Gimarra siamo nel quartiere di Fano i lavori vanno veloci la consegna è in attesa per i prossimi mesi lunga trafila burocratica per ottenere il via libera della curatela fallimentare l'intervento del fondo CIVES fusione e la resistenza di Montemaggiore non demordono i cittadini del comune unito tre anni fa con Serungherini e Saltara siamo prigionieri vogliamo staccarci dunque continuano a battersi per ritornare così come erano cioè Montemaggiore al Metauro e quindi staccarsi da Colli Liliana Segre 90 anni festeggiate alla grande prima telefonata quella di Sergio Mattarella poi Renzo Piano quindi intervista Rai 1 infine la cena con i figli parenti e amiche Loreto a Pesero saluta in New Jersey una rotonda dunque che è per sempre un po' come un diamante a oltre due anni dalla sperimentazione il comune apre le buste per il progetto definitivo test rapidi invece con la saliva per sostituire il tampone l'area vasta 1 vuole fare partire la sperimentazione da destinare ai soggetti più fragili addio al partigiano invece Gino De Angeli aveva 94 anni prima la guerra come staffetta poi il lavoro da muratore in Svizzera tornò a metà degli anni 60 sempre dai quotidiani il Corriere Adriatico le due pagine che vi facciamo vedere adesso sul televisore Urbino e Fano da Urbino appello del comitato a tutti i candidati cosa farete dell'ospedale Lanciarini poi addio a Gino giovane staffetta partigiana anche qui sul Corriere la notizia della morte di De Angeli a 94 anni e poi sul Brodetto da oggi re dei ristoranti al festival il sostegno dell'Europa Urbino Calcagnini è il candidato unitario a rettore l'economista Urbinate correrà in solitudine alla più alta carica dell'Ateneo le elezioni ad ottobre l'inizio del mandato dal primo di novembre per la gestione del Covid gli studenti prenotano le lezioni in presenza con un'app e le matricole sono in aumento dalla Val Metauro e Valle del Cesano sono le due pagine del Corriere scooter si schianta contro un'auto gravi due ragazzi uno intubato l'incidente sulla Flaminia a Calcinelli un booster per evitare un urto invade l'altra corsia la strada è stata chiusa per ore lo scontro con una Opel che proveniva dalla direzione opposta ci sono momenti di ansia ovviamente per questo minore che è ricoverato al Torrette di Ancona ed è arrivato trasferito in eleambulanza a 18 anni ed è stato ricoverato nello stesso ospedale dopo l'intervento di un secondo elisoccorso tutto è successo alle 16.30 lungo la Flaminia nell'abitato di Calcinelli e poi e poi c'è quest'altra notizia che invece è sulla pagina della Valle del Cesano lavoro in corso per la scuola la sindaca pronti a Pergola a partire sotto 8 luoghi a Pergola dedicati a blooming oggi e domani gli artisti della ricerca in cultura digitale poi a scuola sempre dalle pagine di Fano del Corriere a scuola come in una bolla nuove dinamiche relazionali i rapporti dell'alunno limitati ai compagni di classe per controllare il rischio contagio la modalità adottata particolarmente alle materne 80.000 euro anche per i nuovi arredi e poi ridotto il gettito delle multe resta sempre a Fano l'obiettivo telecamere il Covid ha causato la revisione del piano del comune rinviato il nuovo regolamento la nuova disciplina delle mobilità rende necessaria una maggiore vigilanza sulle infrazioni beh certamente con meno gente al volante nei due mesi del lockdown sono entrati anche meno soldi quelli previsti nel bilancio dal comune mancano invece banchi gel e mascherine a Senigallia famiglie degli studenti in agitazione a informare i genitori delle carenze ministeriali e non comunali sono stati dirigenti scolastici travolto in Vespa incidente shock per Canonici il dirigente della Vigorina è stato sbalzato sotto una macchina in sosta tra Pesore e Fano vi segnalo questo articolo sulle pagine di Pesaro del resto del Carlino tra Pesore e Fano la rivoluzione del teatro si parla di due figure centrali dell'innovazione scenografica e queste due figure sono Niccolò Sabatini e Giacomo Torelli che sono due scenografi che hanno fatto davvero cose straordinarie tra la fine del Cinquecento e del Seicento insomma si parla di effetti speciali tuoni fulmini saette e poi luce ma anche l'effetto dell'ombra tutto insomma si ricreava e poi i progetti le macchine costruite hanno avuto una diffusione universale i due geni sapevano fare praticamente di tutto la loro capacità artistica era ad ampio raggio e soprattutto riconosciuta lo sport velocemente in chiusura Rossi Valentino Rossi 41 anni è a soli 25 punti dal leader del mondiale Quartararo Rossi dice ritiro il 27 firmo con Petronas per il 2021 quindi insomma non ci pensa nemmeno il dottore respinge le solite voci ormai siamo molto vicini all'ufficialità e probabilmente già a Barcellona faremo anche l'annuncio finale chance per Luca Marini Martin positivo al Covid salterà le due gare il fratellino di Vale dunque può allungare in vetta al mondiale arriva la Tirreno Adriatico a Senigallia parliamo di ciclismo scattano di vieti in mezza città predisposto lo stop al transito delle auto ma anche ai parcheggi per far passare i ciclisti la partita tra il Fano l'Alma Juventus Fano di calcio e l'Asco è finita 2 a 1 per i Granata che passano subito con Barbuti e Parlani sfiorando addirittura il terzo gol Bianconeri invece più indietro con la preparazione a segno con l'ex Tofanari dunque Lascoli finisce al tappeto ed è un debutto quello dell'Alma in versione nuova stagione che convince convince gli osservatori il mister mister Alessandrini sorride però attende sempre i rinforzi e dice ottima prestazione ma servono appunto giocatori sul fronte della visi invece oggi c'è un test contro una pretendente alla Serie A alle 17.30 Ferrari Biancorossi incrociano la spalla che ha mantenuto larga parte dell'organico retrocesso Galderisi cambia un po' la formazione mentre sul parquet della VL a Pesero vince in Supercoppa agevolmente la VL appunto la Carpegna Prosciutto contro Roma mentre Brindisi batte Sassari il pass per le finali tra domani e lunedì dunque Pesero che vince 89 a 56 contro la Roma Carpegna Prosciutto che travolge Roma per la seconda volta in quattro giorni adesso la storia si fa interessante la vittoria al photo finish di Brindisi su Sassari vendica quella dell'andata e regala alla VL la chance di giocarsi fino in fondo la qualificazione alle Final Four e con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa grazie come sempre per la vostra attenzione e vi do appuntamento stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci e vi do appuntamento